Ragazzi, saltate qua, non lo so, mi state a vedere, lo so, alla salute vostra, mamma mia, mi sacrifico per voi, spettacolare, andrete al Settimo Cero, andate voi, fate sta ricetta, sbrigatevi, questa è musica ragazzi, e niente, buon appetito, ciao! Salve a tutti ragazzi, bentornati nella mia cucina, oggi andremo a fare un piatto veramente speciale, oggi mi sono alzato con la voglia di alici, però ho detto, come le faccio queste alici? Che non so, sono andato a guardare dentro al frigo, ho detto, vabbè, vediamo che ci abbiamo, visto? Pomodorini, pomodorini, ci abbiamo, ci abbiamo alici, eccole qua, una bella burratina, e poi, con questi tre ingredienti, mi avete in mente, le fa una pasta, noi spaghetti, alici e burrata, quindi oggi andremo a fare questa pasta, spettacolare, e vediamo gli ingredienti, già tre ne abbiamo visti, quindi pomodorini, alici, bella burratina, fresca fresca, useremo burro, prezzemolo, un po' di piccante che ci vuole sempre, aglio, i nostri spaghetti trafilati in bronzo, bellissimi, e bagneremo tutto con un bel bicchiere di vino italiano, vabbè qua, il nostro immancabile olio extravergine d'oliva, sale e pepe, quanto basta, e niente, andiamo a fare questa ricetta, non vedo l'ora di mettermi all'opera per voi. Allora, eccoci qua nella nostra postazione, iniziamo subito a, andiamo a mettere un goccino di olio extravergine d'oliva nella padella, un goccino perché ci metteremo anche il burro, faremo anche due nocette di burro in questo modo, ci vuole, vogliamo una bella cosa salsosa, vogliamo ricreare una bella densità a questo piatto, andiamo un po' a sciogliere, nel frattempo così, poi ci serve spicchio d'aglio, così, io ci metto pure un po' di prezzemolo, sia foglie che rametti, e andiamo a rosolare ben bene, deve sfrigolare, come si dice, andiamo a mettere, così, io ci metto tutti, perché tanto poi si spapperanno, sono talmente già morbidi di loro che basta un po' di calore che si sciolgono, così, in questo modo, poi naturalmente tutto il prezzemolo lo andremo a togliere, questo prezzemolo, poi lo aggiungeremo in un secondo momento. Ok, con la pinzetta andiamo a togliere il prezzemolo che ha fatto il suo lavoro, andremo a metterci un po' di quella nota un po' piccante, che è il peperoncino, io sto utilizzando questo verde, fresco, voglio utilizzare quello che vi pare, in questo modo, che vi dà quella nota speziata, io ci vuole mettere tutto, a me piace il bello piccante, vai, dentro, tutto dentro, vedete come se sta a scioglie, si abbasserà un po' il fuoco, tra poco l'acqua sta bollendo quasi già, quindi andiamo a buttarci la nostra pazza, tanto questa poi lo terremo fuori, fuori dà il fuoco, aspettiamo che si fredda un pochettino, facciamo un attimo rosolare un pochettino, poi andremo a bagnare con un po' di vino, un po' di vino bianco, allora, andiamo a togliere l'aglio che ha fatto la sua parte, allora, prima di inserire i pomodori, andiamo un po', prevedisco farlo prima, andiamo un po' a sfumare col vino, un goccino, proprio un goccio, aspettiamo talmente che poi, come al solito, evapori il tutto, ok, qua sta evaporando il nostro vino, andiamo a buttare la pasta, che ormai ci siamo, questa sarà 8 minuti di cottura, 8-9 minuti, noi la togliamo intorno ai 7 minuti, e la finiremo poi in padella, come al solito, ah, che bello ragazzi, troppo godurioso, ok, qua è quasi pronto, fra poco andremo a buttarci i nostri pomodorini, e poi lo terremo da parte, i pomodorini non voglio che si cuociono troppo, giusto per dargli una botta, capito? Perfetto, qua è tutto evaporato, andiamoci a inserire i nostri pomodorini, e lo andiamo a fare per uno o due minuti, un paio di minuti, così, ok? Ok, ragazzi, qua ci siamo, andiamo a mettere questa pasta, l'abbiamo lasciata un po' prima caldente, un po' ancora cruda, così la finiamo di cuocere in padella con questo ben di Dio che ci aspetta, scoliamo un po', insomma, sotto il fuoco è ancora acceso, perché comunque dobbiamo ricreare questa cremina, ricreiamo il nostro sound, che ci piace tanto, ok, in questo modo, così ragazzi, così, vai, vai, spettacolo, guardate come si sta la marga, ma già la cremetta ha fatto, ma date il tempo, un altro po' d'acqua, e questa, questa è quella che ci piace, così, deve saltare, deve saltare, va, tiè, già si è formata la cremetta, ma stare a guardare, cioè una cosa, io ho, boh, il settimo cielo, cioè il settimo, guardate, è come stampare l'adiso, stare a guardare che spettacolo, qua ci siamo ragazzi, un altro goccino, per richiedere un altro po' d'acqua, e ci siamo, tiè, andiamo, andiamo a impiattare, vai, che c'è una fame terribile, ecco acqua ragazzi, guardate che, che spettacolo, guardate che crema, vai, andiamo a impiattare, alla nostra maniera, che ci piace tanto, bella, aggressiva, me la lascio un po' dentro, come al solito, per l'assaggio, e poi dentro la padella, è la parte migliore, secondo me, questo è tutto un ben d'indio, che non va, assolutamente dimenticato, in questo modo, vai, ok, prima che vado all'assaggio, naturalmente, non ci dobbiamo dimenticare, della nostra buradina, guardate che stupenda, va, pezzettini così, ta, ta, così, guarda, dobbiamo fare un quadro ragazzi, dobbiamo ricreare un quadro, questa è una cosa spettacolare, ma stai a vedere, deve colare, non vi preoccupate, che vi è sporca, ve deve colare, metta l'acqua, vai, tiè, io la metto tutta, tanto ce la mangiamo noi, questa, fate pure voi così, mica state al ristorante, tiè, ma sarà vero che, che stupenda, sta cosa, sarà vero che stupenda, tiè, ok ragazzi, guardate qua, che quadro, poi, io ci metto una, un non nulla di, prezzemoletto, questo modo, e poi, il solito filo d'olio, che ci sta sempre bene, questo modo, vai, ragazzi, cotto e mangiato, semplice, veloce, appetitoso, io adesso però, se voi vi permettete, che devo fare, vado a provare, tiè, che faccio, non provo questa cosa, vado dentro la padella, tiè, questo è il meglio assaggio, che potete fare, non c'è altro, più buono di questo, alla vostra, vi saluto, è una cosa, spaziale, poi c'è sto, salato giusto, perché io, non ci ho aggiunto sale, perché c'è l'alice salata, la pasta comunque salata, la burrata comunque un po' salata, è perfetto le sale, ci sente quel pizzicantino, che può andare bene, a chi piace, è perfetta, poi la burrata, vabbè, io mi finisco questa, vi saluto, rifatelo, immediatamente, oggi, domani, quando vi pare, piatto fresco, estivo, cioè, questo potete anche, star bene, con questo, io mi farei una settimana, di fila, guarda, buon appetito, riprovate, fatemi sapere come, come vi viene, ma penso che vi verrà bene, un abbraccio, alla prossima, e, che, che, che,